Amici, vi aspettiamo su juniortv.it Aiutaci a creare il canale tv che avevi sempre sognato Matita, guarda questo! Ha! Non è molto divertente? Assolutamente no, fuoco! Ho visto bolla essere scoppiata 3.000 volte, ma quella che hai fatto tu era la più crudele! Sai una cosa fuoco? Dovresti assaggiare la tua stessa medicina!